C'era una volta un sogno, nato dalla terra, tra gli intrecci della vite nel cuore dei grappoli d'uva maturi. Dalla passione, dalla cura di chi sa che un sogno va coltivato, perseguito, condiviso. Il sogno di tre sorelle, Dominga, Marta ed Enrica, la seconda generazione della famiglia Cotarella. Con l'animo rivolto al passato, alla tradizione, alla storia e gli occhi puntati dritti al futuro, nasce Intrecci, alta formazione di sala. La storia di Intrecci non è solo la storia di un sogno realizzato, ma anche quella di un ritorno a casa. La scuola sorge nel cuore di Castiglione in Teverina, esattamente accanto alla cantina dove in passato è iniziata l'avventura vitivinicola della famiglia Cotarella. Un campus con un innovativo sistema di istruzione dove i ragazzi, vivendo fianco a fianco ogni giorno, possono avere continue occasioni di scambio e condivisione. Intrecci è curiosità, cultura, coraggio. Intrecci è classe, carattere, calore. Per chi crede che la sala non sia solo un mestiere, ma una vera e propria forma d'arte. Intrecci, è cura per i dettagli. Docenti accademici e professionisti di alto livello, preparati e motivati. Un programma didattico ricco e multidisciplinare, dove ai saperi tradizionali si affiancano materie non convenzionali. Sala e accoglienza, sommellerie, lingue straniere, marketing. Per seminare dubbi, sana confusione e far sì che i ragazzi abbiano gli strumenti per trovare ognuno la propria strada. Una scuola che risponde alla richiesta sempre più forte del mondo del lavoro e di figure di sala altamente professionali, in grado di tenere insieme i fili che uniscono l'arte della cucina a quella dell'ospitalità. Con Intrecci nasce un nuovo tipo di sala. La sala che serve. Intrecci è una scuola che insegna che non bisogna mai smettere di sognare. E per questo è in continua evoluzione. Nasce la piattaforma digitale Intrecci Academy, con corsi di formazione online. E si aprono tante porte sul mondo. Intrecci è culture diverse, scambio di idee, internazionalità. È vera accoglienza. All'interno dell'ascensore di Intrecci, anche se la scuola ha solo quattro piani, troverete una tastiera che ne riporta nove. Ogni volta che qualcuno vi entra, raccontiamo che può arrivare al settimo cielo e realizzare il proprio sogno di felicità. all'interno dell'ascensore di att более Duke di dato. Fincie se ne riporta nove. All'interno dell'agравля del tuoío Polizzo, ovun'domi d'erawa Grazie a tutti.